Ueeh non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice creator. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Ueeh bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi sfida numero 2 della settimana numero 1 di questa nuova season 8. Avete già visto il video delle tre facce da cercare ma adesso invece vediamo tutti gli avamposti dei pirati da cercare. Le posizioni dove sono? Andiamo subito a vederle ragazzi. Allora primo avamposto bisogna scendere proprio qua ragazzi. Come vedete siamo nella nuova zona dove c'è la spiaggia, la laguna diciamolo un po' così. E questo ragazzi è l'avamposto numero 1. Ci atterriamo molto tranquillamente. Fa niente se ci killano tanto stiamo facendo la sfida. Una volta che siamo atterrati con questa velocità che ci ha reso celebri in tutto il mondo. Avamposto numero 1 fatto! L'avamposto numero 2 invece siamo sempre vicino al vulcano. Più precisamente dove c'è la lava ragazzi. La nuova parte di mappa che è veramente incredibile. E come vedete qua lo riconoscete ragazzi perché hanno la bandiera dei pirati sopra. Quindi per questo è chiamato avamposto dei pirati. Avamposto numero 2 fatto! Posizione numero 3 ragazzi. Eccolo qua. Nuovo accampamento tra pinnacoli pendenti e sprofondo stantio. Lo vedete tranquillamente dalla mappa. Numero 3 fatto! Accampamento numero 4 ragazzi. Invece siamo nel deserto. Avete sicuramente capito la posizione. Là dietro c'è palmetto paradisiaco. E questo è dove c'è il ponte crollato. Accampamento numero 4 fatto! Accampamento numero 5 ragazzi. È sulla montagna vicino a Landeletali. Avete capito benissimo dove siamo. Dove prima c'era la casa. Adesso c'è un nuovo accampamento. Numero 5 preso! Penultimo accampamento ragazzi. Siamo invece ai piedi del castello di ghiaccio. Dove c'è il lago ghiacciato c'è un accampamento dei pirati. Ci atterriamo. E accampamento numero 6 fatto! E siamo arrivati finalmente all'ultimo accampamento dei pirati. Avete capito dove siamo? Esatto nella casa. Quella che c'è dietro a Parco Pacifico. Completiamo tutti gli accampamenti. Mi raccomando un bel like. Condividete questo video con i vostri amici. Noi ci vediamo presto! Ciao! 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 Ciao!